ciao ragazzi oggi vi farò un mini svuota la spesa vi farò vedere quella poca spesa che ho comprato allora ho qui le grossoline bianco formaggio mix di formaggi della conat la bevanda di riso che adoro il risotto della conat roma poi il latte lo yogurt della valsoia questo che devo fare un dolcetto quindi cacao il tonno sempre buone mascarpone gnocchi sono buonissimi raga che già sapete che mi piace molto il lievito che devo fare un dolce questo che non so sia per colazione sia per fare qualche dolce biscotti del loro saiva questa cioccolata qui fondente e lo zucchero e le brugne con acciolo molto buone poi i fazzoletti questi qua e la mozzarella io metto tutto metto alcune cose in frigo vi saluto ciao questa è la mia piccola spesa e spero che questo video vi sia piaciuto vi mando un grandissimo bacino e a presto raga ciao